Allora ragazzi, ciao da Nikkei, bentornati qua su Emergency 5 Allora, vediamo un po', dai, ci dobbiamo preparare per la settima missione se non mi sbaglio Aspettiamo quindi che arriva qualche lavoretto da fa' Incidente automobilistico, tamponamento a catena Salva i conducenti dei veicoli distrutti, occupati dei feriti e sgombra il luogo dell'incidente Ricorda di tenere d'occhio il tuo elenco attività per sapere cosa fare Capito Yes, capo, yes Sì, signore Subito Oh, yeah Dunque, carroattrezzi Let's go Mi pare che fuoco non ce n'è Mannaggia il tizio ciclista, guarda cos'è con... Ma perché scusa? Perché li devo estrarre dal veicolo? Alla fine non lo stanno tutti sti danni, ah Cioè mi pare un po' assurdo, eh, dai Potete uscire benissimo, non è successo niente, sportelli sono come nuovi Vabbò Intanto è arrivato di tutto, giustamente Eccoli qua Subito Ma fa piacere Allora, tu E tu Tu e tu scendete Ci penso io Mi piace Dov'è la terza ambulanza? Ma perché non vieni? Certo Eh Allora Ci stanno già andando Mizzica, intelligenti sono Sì Va bene No, tutte e due nella stessa macchina Non si può fare A disposizione Scendete Sì Ok Sì Ok Tu vai qua Tu torna dentro Sì Consideralo fatto Mi fa piacere A posto Tu Sì Vieni qua L'altra ambulanza finalmente arrivò Non so che giro si sta a fa Dai E cura la va Sì signore In attesa di ordini Allora Vediamo un po' un attimino Di sistemare Sta situazione Capito A disposizione Sì signore Sì Tu rientra A posto In attesa di ordini Tu Te ne vai qua Sì Tu vai qua A posto Mi pare che questi hanno finito Se ne possono andare A disposizione Sì Ti pareva quel fituso con la macchina Ok Vediamo un po' dunque C'è altro da fare No Quindi mettiamo il tempo veloce Che ci sbrichiamo prima Sì Ok Ok Perfetto Sì Va bene Sì Capito A disposizione Ok raga Sì L'ambulanza Ci ha messo io Inferito In ospedale Alla base Ok Sì Tu vai qua Tu Piggi questo Tu Piggi questo Certo Voi tornato alla base Capito A posto Raga Questo primo compito Fu fatto Fu svolto Avanti la bicicletta Chi è che la togli Ah Ok Abbiamo rimosso tutto Abbiamo sistemato tutto Dove cacchio è Ok Mancano Mancano solo i veicoli Guardate che traffico Eh tu Questa specie di macchina gialla Perché non te togli Guarda che storia Va Guarda che coda Meno male che quelli passano da qualche parte Va Dov'è l'altro Forza È a posto Bravo Di lì Massi Vai tranquillo Passa attraverso i muri Ok Attenzione Rapina in strada Ok La vittima è stata assalita e ferita dal criminale E alcuni oggetti di valore sono stati rubati Se il ladro è ora in fuga Medica la vittima Poi trova e arresta il colpevole Ci penso io Ok Capito Il criminale cerca di lasciare l'area della missione Fermano subito Non ti preoccupare Non ti preoccupare Opiamo Opiamo Ehi tu Si Dov'è Ci penso io Forza Sì signore Forza che sto futuso scappa S.O.S. Una persona è ammalata E ha bisogno di cure mediche Scopri in che stato si trova E medicala Se necessario Trasportala lontano dalla scena Va bene Su stufetuso si fa massa Va bene Ma nonna mia che sbirlente Sì Forza via manette Sì signore Sì signore A disposizione Sì signore Sì Forza 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 che devo ancora curare quella E dai Subito Ok Allora Scendete Sì signore Qua Tizio medico Consideralo fatto All'atto della polizia Sta portando il prigioniero In cella Capito In attesa E qua Capito A disposizione E qua Let's go Dai che curiamo la tipa Intanto qui arriva l'auto medica Cosa c'è Guarda che girolagga Che donna fa Subito Avanti potete portar via la tipa Capito A disposizione Presente Cosa c'è Ok Angolo perfetto Allora auto medica Ne mandiamo a meno una Ambulanza Ne mandiamo due Sì signore Mandiamo un po' di soccorso Che non si sa mai E niente Mi pare che Può bastare così Trasferisci Feriti Chi Dove Ah ok Questa è fatta Dove Qua Cosa c'è Vai qua Presente Ok Allora Accidenti Meno male che ho mandato Sì sì Meno male che ho mandato Un po' di soccorso Dai 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 Ah si mette male Dove è la nave Dove è la nave Antincentri Eccola qua Cosa c'è Vai a spegnere la nave Sì signore Intanto Stanno arrivando Tutti Quelli che ho mandato Vai a scaricare la nave Dove è il poli Soccorso Che qua mi va a fuoco tutto In attesa di ordine Vai qua Vai qua Sbrigate Ma guarda sto fottuso Togliti Mamma mia Allora tutti quanti con la lancia qua Dove è Capito Allora tu Mi raffreddi sta macchina Tu mi spegni questo E tu mi spegni questo Capito Il pompiere non riesce a trovare un'esposizione Libero nelle vicinanze dell'obiettivo Ci penso io E vabbè mo Allora vediamo un po' Il pompiere Spegni questo Consideralo fatto Ok Dov'è la barchetta Dov'è Non la vedo Dov'è andata a finire la barchetta Raga Ah eccola qua Cacchio qua va a fuoco più roba Non mi piace più Spegni questo Via questo Allora Scendete 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 Scarica SOS Edificio in fiamme Per cause ignote Alcune persone Sono ancora intrappolate All'interno Salvale Estingui tutti gli incendi Se necessario Medica i feriti E rimuovi i veicoli distrutti Presente Ok Autopompa Serbatoio E un polisoccorso Sì signore Allora Nave in fiamme Oh abbiamo qui Feriti Uno A disposizione E due Barelli Sì Vai qua Sì Vai qua Tu Sì Ovviamente Mi raff... Mi raffredda Mi raffredda Sta macchina Fa qualcosa Ok A disposizione Carica Ma chi sta curando Non lo sto capendo Attenzione C'è una persona in pericolo Sul balcone Dell'edificio in fiamme Portiamo l'autoscala Sulla scena Il prima possibile E mettiamola in sicurezza Sei appena arriva Ancora sei in viaggio Allora puoi rientrare Ok Certo Mi pare che gli incendi Sono tutti spendi Sì signori Sì signore Perfetto Perfetto Tu torna alla base Consideralo fatti Tu Ok Torna alla base No problem Perfetto Allora Io direi che sto Polisoccorso Lo mandiamo ragazzi Qui dove serve Lo mandiamo dall'altra parte Della strada Va bene Perfetto Vediamo un po' Se ci stanno i feriti Qua Tutto a posto Allora Ambulanza Vai qua In attesa di ordini Vai In attesa di ordini Vai Presente A disposizione Allora Rientra Carica Ok A disposizione No problem Ma che è un uomo invisibile L'abbiamo curato A disposizione Ci penso io A disposizione Subito Insomma Caricate Cosa c'è Va bene Sì Va bene Sì Ok Cosa c'è Porca caccia Oh Mi sta a fancavola Ok raga Pausa Perché Oh Meno male Che questi A meno L'incendio Stanno già A spegnere Cosa c'è Cosa c'è Come tiriamo giù A questo Dov'è l'autoscala Sì Polisoccorso Polisoccorso Ah ecco Dove cacchio E' la scala L'ho mandata Ma che c'è Ma che c'è Fa la scala Qua L'autostorio Io non ci posso Credere Ma come cosa c'è C'è ma tu guarda Che storia Dico ma tu sta Dove Capito Ho capito Un cavolo Guarda Capito Un cavolo Ho capito Questo Mamma mia I bug Però C'è tipo Qua Non posso Fa niente Subito In attesa Di ordini A disposizione Capito Ma capito Cosa Capito Tre ore Ah forse Ce la fa Oggi Capito L'ambulanza Sta portando Il ferito In ospedale Alla base Cosa c'è No problem In attesa Di ordini Mannaggia Manca solo La scala Sì In attesa Di ordini E ti pare Che arriva St'autoscalado Cacchio È A disposizione Che famo Stiamo giocando Oggi Dobbiamo salvare Sto tipo Ma dov'è Polisopcorso Questa Porcaccia Novella Scala L'ambulanza Sta portando Il ferito In ospedale Alla base Oh Mamma mia Già Devo portare Manualmente Sta scala St'autoscalo Scala del cavolo Io non so che devo fare No certo il cavolo Ma che devo far raga Questo non sa guidare Ma chi ha dato la patente Guardalo Però non è che ne ho due Da mandare Ne ho solo una Subito Oh mamma mia Quello me crepa Io già lo so Considero l'ho fatto Eh già Ma guarda che traffo Si è verificato un grave problema tecnico Con una cassetta di derivazione Chiunque le si avvicini Rischia di restare folgorato Ripara la cassetta di derivazione Il prima possibile Si è occupati Degli eventuali feriti Forse scorse così Ce la fa Amor raga Se la porto io sta cosa Ci penso io Allora mandiamo un attimo Sto veicolo tecnico Dove cavolo Dove mannato Oddio C'è già C'è già l'unico Pirla Che si è avvicinato C'era ovviamente Perché non poteva mancare Presente Forza Dobbiamo salvare sto tipo Questo me crepa Ma dov'è poi Mi sono perso pure Ma quanti ce n'è Uno due Uno Si signore E' data una mossa Ma questo me crepa Si ok Dov'è l'ambulanza Devo mandare una quansa Certo Tiralo giù A sto tizio Va Che poi Fa tanto fuoco Non ce n'è più Non è che deve Fa tutto Tutto sto fumo Va Per dire Nie Male Sta addirittura Ma Che che posso Comprare Comunque Va Aereoambulanza Lancia Antincendi Un'altra Ok Comprata una Ce la famo Si signore E' ancora difettosa Ci penso io Cosa c'è In attesa di ordini Veloci 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 Torniamo di là Torniamo alla base Cosa c'è Si signore Si Si signore Si signore Cosa c'è Ok Miracolo Allora qua In attesa di ordini No problem Io stesso dizio Che c'è dall'altra parte Disposizione Penso io Cosa c'è Si In attesa di ordini Si Ok Presente Va bene Ok Si Si signore Ok Dai che ce l'abbiamo fatta Alla fine Sta portando il ferito In ospedale No problem Cosa c'è Miracolo Dai Beh In attesa di ordini Cosa c'è Certo Qua com'è la situazione Dove Dov'è Ah già l'ambulanza sta tornando indietro Certo In attesa di ordini Certo L'ambulanza sta portando il ferito In ospedale Subito Ok Va bene ragazzi Ma noi Ho sbagliato Ma noi ci fermiamo qui Con questo gameplay Aspettiamo che becchiamo sti ultimi Dindini Diciamo Sti ultimi Crediti Quindi ragazzi Come sempre Spero che il gameplay vi sia piaciuto Come vedete Qualche bug Purtroppo il gioco ce l'ha Ma va bene Comunque abbastanza ovviamente Godibile Lo stesso Se non fosse Se non è per sto ticcio Questa macchina gialla Vabbè Quindi ragazzi Spero che il gameplay vi sia piaciuto Come sempre Commentate Iscrivetevi Lasciate un bel pollicione In su raga Salva i conducenti Dei veicoli distrutti Occupati dei feriti E sgombra Il luogo dell'incidente Va bene Ricorda di tenere d'occhio Il tuo elenco attività Per sapere cosa fare Va bene capo La prossima volta però Quindi ragazzi Dicevo vi saluto Ciao alla prossima raga